benvenuti in questo nuovo video si sono vestita sempre uguale qui questa è una macchia queste sono macchie invece di acqua questa è una macchia di non so che cosa e quindi sono vestita da casa accettatemi così come sono perché fa caldo e cioè non ci ho neanche pensato a vestirmi un minimo decente per fare il video così come sono io registro perché non so di stare a prepararmi ho anche i gatti che mi fanno compagnia lì ho dash lì silvestro e lì c'era leonessa ma adesso non la vedo più vabbè non ha importanza sono qui per farvi questo video o alla carlita haul una cosa del genere com'è che dice haul mi sta sulle palle ma insomma stavo notando una cosa c'è la legna tutta storta va beh non è importanza vi faccio vedere che cosa ho comprato che è meglio parto da questo sacchettino all'interno ci sono c'è c'è questa roba qua allora questa che cos'è a primo impatto sembra una gonna in realtà sono dei pantaloncini il prezzo è di 8 euro e 99 short macramè eccetera eccetera neri c'erano solo neri questi qua un altro pantaloncino questo è del lidl sono dei semplici pantaloncini di tuta diciamo questi si chiamano shorts basic in morbida felpa ecco in felpa infatti ci sono una 42 44 io devo prendere taglie grandi proprio per le cosce adesso acquisti piazza italia qui ho dei pantaloni di tuta lunghi con elastico alla fine questo elastico è devo dirvi abbastanza stretto considerando che ho problemi di circolazione questo è abbastanza stretto vedrò di sistemare la cosa sono vita alta il mio problema la vita alta e piazza italia questi li ho comprati ieri che era il 5 di luglio perché avevo due buoni da utilizzare due buoni a 5 euro quindi 10 euro di sconto su una spesa di 30 io poi in realtà ho speso di più questi sono costati 9 euro e 95 una taglia s mi ero di dimenticata una cosa costume questo è il pezzo sopra triangolo normale devo ancora provarlo taglia italiana 42 e questo qua triangolo giallo volevo prenderlo sia nero che giallo poi alla fine l'ho preso solo giallo altri pantaloncini fatti con questa fantasia questi sono di piazza italia continuando con con gli acquisti di di quel negozio piazza italia 7 euro 95 taglia l adesso li indosso e ve li faccio vedere eccomi qua allora ho preso una taglia l per essere comoda cioè comodissima larghi e sono leggerissimi c'hanno anche le tasche non le avevo neanche viste hanno anche le taschine comunque li ho presi vera questi sono solo per fascena non servono assolutamente a niente hanno un bel elasticone qui e li sto tenendo sì su l'ombelico più o meno e li ho presi larghi apposta per stare bella fresca e non morire di caldo anche se dovessi dimagrire mi andrebbero comunque bene quindi guardate qua sono sempre peggio sono sempre peggio comunque non potrei neanche stare al sole niente ho preso questi e sempre dello stesso tipo sempre stesso tipo stesso tessuto ho preso anche questa versione quindi fatti un po diversi indossati sono la stessa cosa di questi praticamente perché la taglia è la stessa il prezzo è lo stesso quindi non ve li faccio vedere passiamo ad altro piazza italia questo era un capo scontato una canottiera da scontatissimo da 14 euro e 95 a 12 cioè taglia sm adesso la provo qua con voi perché l'ho provata ieri in negozio ma non avevo il costume sotto col costume secondo me rende diversamente una normale canottierina con queste nappine c'era anche verde militare e forse rossa se non sbaglio però franza non piaceva avere militare quindi ho preso questa la gialla a me non dispiace l'unico difetto che ho riscontrato in questa canottierina è che è più larga più lunga davanti e più corta dietro eccomi qua ho preso questa magliettina che però adesso mi sembra alquanto scomoda non la capisco aiutatemi perché è più più lunga sopra perché è alta qua sopra dietro sta giù aiutatemi questa cucitura qua mi da questa mi dà immensamente fastidio comunque avrei dovuto provarla prima di acquistarla questa è la fantasia ed è leggera leggera questa che taglia e scusate è costata 14,95 ve l'avevo detto sm bianco ultima cosa qua il prezzo c'è già su sono degli orecchini 5 euro e 95 adesso partirà la borsa niente di che ma era per poter utilizzare tutti e due buoni sconto quindi ho preso questi qua detto questo io vi ringrazio per essere stati qua con me in questo video un po' strampalato e noi ci vediamo la prossima volta mi raccomando seguitemi anche su instagram se vi interessano le foto di paesaggi e niente ci vediamo alla prossima ciao sono vestita a piazza italia ciao